Bene, adesso ti collego. Wifi o se dice wifi? Perché non entriamo e basta. E io, io me ne vado. Questa è stata la mia prima volta al doppiaggio in un film Disney e sono semplicemente elettrizzata. Se potessi avventurarmi dentro internet, boh, avrei tantissime scelte da fare, ma una cosa che veramente mi piacerebbe sapere è come possono inviare a casa tua in magari qualche ore pacche che arrivano dall'altra parte del mondo. Ragazzina, mi sa che non siamo più da Litwack. Lo puoi dire forte, amico mio. Siamo il mio internet. Andiamo, Ralph! Se Ralph spaccasse il mio internet, ma probabilmente andrei a spaccarlo con lui perché mi divertirebbe da impazzire. Oh sì, Dirty Socks, dacci dentro! Prova a vivere con ci siamo, Dirty Socks, dacci dentro! Ci siamo, Dirty Socks, dacci dentro! Siamo nel 2018, ormai hanno creato qualsiasi sito, qualsiasi app, a meno che mi vengano in mente adesso, ma tranquilli che nel futuro troverò io l'app che ancora non esiste e la inventerò. Ciao, tenetevi pronti perché Ralph spaccherà anche al cinema con Ralph spacca internet. Speratevi aspettiamo! Sbacco tutto!